L'invecchiamento cutaneo è un fenomeno fisiologico complesso. La nostra pelle muore ogni giorno e ogni giorno rinasce perché le cellule che la compongono hanno una vita media di circa un mese e per ogni cellula che muore ce n'è un'altra che la sostituisce. Col passare degli anni però questa capacità di riprodursi subisce un rallentamento progressivo con il conseguente spessimento dello strato corneo che risulta più rigido e sempre meno elastico. Le fondamenta sulle quali si basa l'epidermide subiscono profonde modifiche che alterano l'equilibrio che sostiene l'architettura della pelle. Così come il cedimento dei pilastri di un palazzo porta alla formazione di crepe, così il graduale cedimento delle strutture del derma porta alla formazione di rughe. L'altra principale causa dell'invecchiamento sono i radicali liberi, molecole con elettroni spaiati sempre a caccia dell'elettrone mancante che aggrediscono qualsiasi altra molecola per rubare l'elettrone. La molecola aggredita cede l'elettrone e subisce una modificazione strutturale. Quando questo processo raggiunge velocità elevate a causa dell'esposizione al sole, dello stress, del fumo, dell'inquinamento, i radicali liberi danno origine ad una reazione a catena, il cosiddetto stress ossidativo, che raggiunge velocità talmente elevate da danneggiare un numero infinito di cellule, lasciando sulla pelle un profondo degrado ed innescando un processo di invecchiamento precoce. Dall'avanzata ricerca anora nasce Antesinium, per aiutare la pelle a difendersi dai fattori che innescano i meccanismi di invecchiamento precoce. 4 creme 24 ore per le pelli mature, da usare in alternanza o sinergicamente per minimizzare i danni dell'età. Double Action Cream, crema viso antirughe contro il rilassamento cutaneo con aminoacidi, ceramidi e cera di jojoba. Boto Effect Anti Wrinkle, che agisce sulla distensione muscolare, mimando l'azione della tossina butulinica. Lifting Cream, per un'azione differenziata e mirata su rughe a diversa profondità, con complesso peptidico, burro di karité e lipogel di jojoba. Eye Specific Cream, crema contorno occhi per un'azione antietà a 360 gradi.